E. Uno. Strum. E non l'ho detta, quindi insomma, penso che non abbia bisogno di censure, no? Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, manca davvero poco all'inizio della nuova stagione che attenderemo anche a livello di news, di Ballando con le stelle, lo show del saperosera di Rai 1, condotto da Millie Carlucci. E si parte l'8 di ottobre, i concorrenti sono al lavoro insieme ai rispettivi maestri per, diciamo, per gli ultimi accorgimenti, ecco. Il cast di Ballando con le stelle è composto da Rosanna Banfi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Dario Cassini, Luisella Costamagna, Alex Di Giorgio, Alessandro Hegger, Marta Flavi, Gabriel Garco, Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Emma Stoccolma e Iva Zanicchi. Oh, l'haimo detti tutti. E allora nella prima puntata cosa ci aspettiamo? No, innanzitutto Millie Carlucci che ha scelto Carlotta Mantovan come ballerina per una notte. Eh sì, ha detto, ballerina per una notte che aprirà le danze e sarà lei, Carlotta Mantovan. Vogliamo abbracciarla nel ricordo di Fabrizio Frizzi, grandissimo protagonista della prima edizione. Ha detto così la conduttrice, che era appunto una grande amica poi lei tra l'altro di Fabrizio, con lui infatti ha condiviso la conduzione di uno dei varietà più di successo della rete, della rete, campione di ascolti del sabato sera della prima rete, trasmissione anche abbinata per un certo periodo alla Lotteria Italia, ovvero scommettiamo che. Nella puntata di oggi e un altro giorno di venerdì 7, Iva Zanicchi è stata ospite di Serena Bortone. La cantante ballerà in coppia con Samuel Peron, ballerino e presenza fissa del talk di Rai 1 e per questo motivo i due hanno praticamente vivacizzato lo studio in diretta con una serie di scambi di battute. La cantante, dopo aver simulato un passo di tango, non propriamente riuscito, ma ci ha provato, ebbene, ha detto pensa che... come dicevo a inizio video, non l'ho detto. Oh, mi doveva abbracciare e mi ha detto no, non ci arrivo. Mi ha detto di dimagrire 3 chili. Per quello gli ha detto str... Ovviamente si è trattato di una battuta e all'interno dello studio di Serena si è notata tutta l'ironia e la complicità che c'è tra Iva Zanicchi e Samuel Peron. Durante la chiacchierata con la conduttrice, Iva si è mostrata un fiume in piena, andando a creare del caos e non trattenendosi tra battutine di qua, battutine di là, aneddoti e retroscena di qua e aneddoti e retroscena di là. E sullo show del sabato sera di Rai 1 la cantante ha le idee chiare perché dice io vado a ballando e lo faccio per vincere. Tutti dicono che vanno lì per divertirsi, ma io vado lì con l'intento di vincere. Quindi in questo caso non va bene la cosa l'importante è partecipare. No, per lei l'importante è assolutamente vincere. E Iva Zanicchi con questa frase praticamente ci fa capire che è molto, molto, molto decisa. Più decisa che mai. Infine, Iva, ospite sempre del programma, ha ripercorso la sua carriera e la sua vita privata. La partecipazione al Festival di Sanremo, i programmi e soprattutto tutti i suoi successi musicali. Che non ci dimentichiamo che Iva Zanicchi ha fatto anche musica. Durante la chiacchierata ha anche rivolto un pensiero al marito Fausto Pinna che lotta purtroppo contro una malattia. e nel salottino è stato ospite anche, cioè, è stato ospite lui maschio Guillermo Mariotto giurato dello show sin dalla prima edizione che ha assicurato, ha detto nello show sarà una bomba atomica. E quindi, insomma, ci aspetteremo grandi esplosioni. Questo è tutto per quanto riguarda questa news. Vi ringrazio per l'ascolto. Pollice in su e ci becchiamo alla prossima.